Grazie a tutti. La Camera di Commercio ha messo la sostenibilità al centro della sua iniziativa perché considera la sostenibilità il vero fattore competitivo delle nostre imprese per il futuro e quindi ha messo in atto un progetto che si chiama Futura all'interno del quale ci sono molte iniziative. Oggi parte Futura Open Talks che è una tre giorni nell'ambito della quale alcune tra le filiere più significative dell'economia bresciana interloquiranno con accademici, con politici, con parlamentari, con ministri affinché possano far presente le problematiche che stanno vivendo in ordine alla transizione green da un lato e dall'altro lato chiedere tempi, modi e risorse compatibili con le loro possibilità e le loro potenzialità. Durante l'incontro è intervenuto anche il rettore dell'Università di Brescia. L'Università di Brescia, come la stragrande maggioranza degli Atenei italiani, è molto impegnata sul versante della sostenibilità in tre campi di azione. La ricerca scientifica innanzitutto, per tanti problemi non abbiamo ancora la soluzione, la didattica, noi formiamo il capitale umano delle generazioni che devono affrontare queste sfide da domani e anche la terza missione cosiddetta, cioè il rapporto col territorio. Parlando di territorio, il mondo delle imprese è sicuramente uno tra gli interlocutori privilegiati. Noi vogliamo trasferire i risultati della ricerca alle imprese, ma nello stesso tempo vogliamo ascoltare le istanze che arrivano da chi lavora, da chi vive sul campo, le trasformazioni del settore economico per poter adeguare la nostra ricerca applicata a queste istanze. Per questo siamo lieti e fieri di questa collaborazione con Futura. Futura è uno spazio dedicato alla visione del futuro, un futuro realistico e sostenibile, ormai indispensabile, che si pone in particolare tre obiettivi. La cultura della sostenibilità per generare consapevolezza, formazione per attivare nuove competenze, sostegno alle imprese per ottenere le risorse necessarie. Sarà una kermesse che vede tutta una serie di panel tematici, oltre 100 speaker, sia delle istituzioni, sia del mondo economico, i principali player del mondo economico non solo di Brescia ma anche a livello nazionale, istituzioni regionali, nazionali, locali e ovviamente il mondo della ricerca e dell'università. Iscrivendosi online perché sarà in diretta streaming, purtroppo dovuto a questioni di sicurezza, la partecipazione live è limitata, come voi potete immaginare, mentre invece sarà comunque disponibile in streaming su LinkedIn e su Facebook e si potrà poi vedere le registrazioni di tutte le sessioni anche successivamente sul nostro sito. Open Talks, come dice la parola, è il momento in cui vengono messi sul tavolo i temi che poi verranno sviscerati nell'arco di tutto l'anno e troveranno compimento in Expo a fine maggio. Quindi il progetto Futura è un progetto che si organizza durante tutto l'anno, non finisce oggi, oggi inizia il progetto e il processo di Futura. Tra i relatori presenti all'inaugurazione è anche il governatore di Regione Lombardia Tiglio Fontana che ha voluto dare il suo contributo con un videomessaggio in cui ha ricordato l'importanza dei temi affrontati e ha augurato il pieno successo alla manifestazione e agli organizzatori.